Amici di Youtube, bentrovati da Marco Liguri, avviso importante, qualora questo video dovesse superare i 200 like, ne pubblicherò immediatamente un nuovo, lasciate il vostro piace adesso, per avere subito online un nuovo video di Marco Liguri, video telegrafico, soltanto per aggiornare una situazione che forse avevamo lasciato in sospeso, ricorderete senz'altro del diverbio avuto tra Albano e il governo ucraino, tra Albano e il presidente Poroshenko, Bene, buone notizie, Albano fa pace con gli ucraini, Albano infatti nei giorni scorsi, la notizia è di qualche settimana fa, la riporto soltanto oggi, perché c'è stato un accavallamento di notizie, Albano si è recato all'ambasciata ucraina, pace fatta, quindi con l'Ucraina Albano può tranquillamente bypassare, può dimenticarsi di questa vicenda, piuttosto antipatica, ma in tutto ciò Albano è stato anche simpatico, è stato anche generoso e ha definito, ovviamente a tutte le accuse che gli erano state rivolte, circa il fatto che Albano fosse un terrorista, Albano simpaticamente e con grande autoironia ha risposto, non sono un terrorista, sono un terronista, facendo riferimento al fatto che ovviamente è di origini pugliese, davvero un applauso ad Albano, perché nella difficoltà, in un caso, in una vicenda davvero antipatica, si è rivelato per quello che è, quindi una persona con una forte capacità di sdrammatizzare, anche una persona con un forte senso dello humor, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 200 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo, lasciate i vostri commenti, iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina Facebook Albano Carrisi Fan Club, se siete fan di Albano, iscrivetevi al secondo canale di Marco Liguori, attivate la campanella, seguitemi su Instagram, Marco Liguori 7!